Avere energia gratis e trasportabile è davvero fantastico Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare di una tipologia di prodotto nuova che prenderà sempre più piede qui sul canale ovvero le power station alias delle grosse batterie portatili per me oggetti fantastici che avrei voluto avere già da un po' e ci permetteranno di avere energia gratis infatti si ricaricano anche con un pannello solare con una trasportabilità top possiamo cari amici praticamente usarla ovunque ma prima di andare a vedere questa Alpowers S1005 cari amici solito momento supporto lasciate un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni poi se volete assistenza informatica gratuito o più semplicemente un consiglio scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale Telegram di supporto aiuto veramente tutti cosa molto importante poi non dimenticate di seguirmi sul mio canale TikTok dove porto consigli e trucchi in meno di un minuto per chi non l'avesse capito cari amici stiamo parlando di una sorta di avanzatissimo ed enorme power bank capace di alimentare un po' di tutto ovviamente per diverso tempo io con i miei amici la definisco il power bank per la casa che utilità può avere? tantissime sicuramente delle più disparate innanzitutto può essere usato come fonte di energia se rimaniamo al buio infatti visti i suoi valori di cui parleremo tra poco può mantenere tranquillamente una parte della nostra abitazione in caso di assenza di energia elettrica per esempio può far funzionare un condizionatore per un'ora e con questo caldo direi davvero tanta roba o cari amici una lavatrice per due ore ma si può collegare tranquillamente ad esempio tutta la linea luci della casa può essere usata fuori quando non c'è la possibilità di collegarsi alla rete elettrica alias ferragosto con frigo quindi birre fredde questo elemento piace a Homer Simpson scherzi a parte avremo musica, illuminazione e diremo anche addio agli smartphone scarichi davvero tanta roba ma vediamo più da vicino tutte le sue connessioni e che cosa troviamo in dotazione in questa comodissima borsettina griffata con il logo dell'azienda troviamo l'alimentatore da rete da ben 300 watt con il relativo cavo come potete vedere e di dimensioni davvero generose e anche il peso è abbastanza consistente e nella parte frontale troviamo 4 porti sciuco che sono protette da questo tappo in gomma non bellissimo ma funzionale che riescono ad erogare massimo 1500 watt tra poco vedremo se è veramente così due luci a led una perlato non dimmerabili da 2 watt e i tasti per abilitare le uscite AC e DC oltre che abilitare la connessione bluetooth per comandare a una distanza massima 10 metri la portata del bluetooth la nostra power station potendo anche controllare vattaggi in entrata e in uscita nella parte sinistra oltre alla ventola di raffreddamento abbiamo i due connettori di alimentazione sia circolare che con polo positivo e negativo quindi connettore Anderson che può essere usato anche per il collegamento del pannello solare per un massimo di 400 watt in ingresso che impiegheranno meno di 3 ore per una ricarica completa veramente cari amici non male con i pannelli solari tra poco li vedremo come con caricatore di rete e da viaggio la massima corrente che possiamo prendere è 300 watt ai quali possiamo aggiungere altri 100 watt tramite la porta USB-C utilizzando solo quella la ricarica avverrà in circa 9-10 ore infine troviamo anche la presa per collegare i nostri accessori da auto fino a un massimo di 10 ampere davvero cari amici tanta roba nella parte destra oltre alla seconda ventola per il raffreddamento troviamo tre porti USB che riescono ad erogare 5 volt 2.4 ampere massimo e una porta Type-C da 100 watt sia in ingresso che in uscita oltre che due uscite jack a 12 volt da 5.5 ampere è abbastanza trasportabile pesa infatti 10 kg e secondo me è un ottimo compromesso tra potenza trasportabilità e durata per avere una stima dell'autonomia il calcolo da fare è semplice se facciamo lavorare questa power station in corrente alternata quindi solo utilizzando le porte sciuco abbiamo una potenza di lavoro del dispositivo dell'85% quindi moltiplicando i 1092 wattora del dispositivo per 0.85 e dividendo per l'assorbimento del carico lo so sembra un conto difficile ma vi posso garantire che è veramente semplice se prendiamo in considerazione dicevamo un carico da 100 watt avremo ad esempio quasi 10 ore di autonomia quando la capacità della batteria arriva al 5% la nostra power station disattiva l'uscita a corrente alternata mantenendo attiva quella a corrente continua il display poi ci dà delle informazioni come se il bluetooth è attivo la durata ipotetica della batteria con un carico collegato se sono poi in funzione le uscite a c dc e usb e il consumo istantaneo una cosa che non mi piace è che se usiamo il dispositivo quando è in carica verrà data priorità al consumo istantaneo e non sarà visualizzato il vattaggio in carica non proprio il massimo magari si poteva alternare tra le due informazioni ma vediamo cari amici anche questo pannello solare da 200 watt ricordiamoci che questa power station supporta pannelli con uscita compresa tra 12 e 65 volt innanzitutto la prima cosa che notiamo è la super trasportabilità e il peso ridotto al minimo ovvero parliamo di 6.3 kg mi piace pure poi cari amici questa striscia qui nella parte posteriore vediamo due aspetti importanti ovvero che il sole deve essere davanti ai pannelli non dietro forse banale ma non troppo e che non possiamo lasciarli esposti alle intemperie troviamo poi questa comodissima tasca che racchiude gli accessori in dotazione che sono davvero tanti infatti abbiamo un cavo con connettore mc4 che ci permetterà di collegare altri accessori come questo jack con diversi connettori questo esempio è di lenovo per collegare direttamente un notebook anche se questa operazione non è delle migliori infatti sarebbe sempre opportuno anteporre la power station tra pannello e carico poi abbiamo anche questi connettori per la ricarica di emergenza di una batteria e anche questo cavo con connettore anderson per una piena compatibilità con le diverse power station questa immagine penso che racchiuda al meglio la dottilità di questo pannello e le sue diverse applicazioni pannello che può essere sistemato o utilizzando questi supporti che fanno da sostegno o anche ancorandolo usando questi anelli quindi anche in questo ambito abbiamo diverse scelte per i vari scenari in una tipica giornata estiva questi sono i watt che riesce a produrre veramente non male anche perché potremmo usare energia senza emissioni e a costo zero beh cari amici tiriamo un po' le somme dicendo che questo è un dispositivo che mi piace l'idea è quella di portarvi diversi modelli in modo da soddisfare al meglio le vostre esigenze e questo nello specifico cari amici non eccelle come specifica ma si mette nella categoria dell'ottimo rapporto qualità prezzo infatti la power station costa 799 euro ma è spesso in promo a 699 euro e con queste specifiche a questo prezzo io non ne ho viste altre anzi se c'è qualcuna segnalatemela io cercherò di portarla qui sul canale poi il pannello costa 270 euro ma in promo scende anche a 199 e li vale tutti quindi a meno di 1000 euro si ha un ottimo sistema di accumulo e anche iper trasportabile vi lascio tutti i link per l'acquisto sia di amazon sia del sito ufficiale con relativo codice sconto cari amici sotto in descrizione bene il mio video termina qui mi raccomando condividetelo noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità attivate la campanella per non perdervele e scrivetemi se volete vedere un prodotto in particolare qui sul canale un saluto dal mastro di youtube che ora è anche su TikTok un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto Grazie a tutti.